Tutte le malattie possono essere paragonate a delle scale, queste scale hanno tanti gradini e ci sono sempre i primi gradini, il gradino della depressione è la stanchezza, il gradino del Parkinson possono essere i primi tremori delle mani, il gradino dell'Alzheimer possono essere le prime dimenticanze, le parole che scappano, che non arrivano, che non vengono e poi man mano che uno va avanti sale, sale i gradini e arriva fino alla situazione conclamata della malattia ben definita, della depressione in questo caso.